Bollette da migliaia di euro, variazioni unilaterali di contratto delle utenze e continue chiamate per proposte commerciali. Sono molte le segnalazioni di episodi spiacevoli che arrivano anche dall'Alto Tevere, problematiche che talvolta possono diventare casi eclatanti, come quello preso in carico dall'avvocato Dario Pellegrini di Adic Umbria, associazione che tutela i diritti dei cittadini. Una signora si è vista arrivare a casa una bolletta di 4.500 euro riferita a ben 13 mesi di consumo. Noi abbiamo prima di tutto inviato un reclamo alla compagnia di fornitura e abbiamo quindi incardinato presso l'autorità garante dell'energia e gas una procedura di conciliazione che ai primi di novembre avrà la sua prima udienza. Cos'è meglio fare quindi? Prima di tutto sì, non farsi prendere dal panico e non chiedere immediatamente una rateazione degli importi, ma di rivolgersi eventualmente in caso di dubbi a esperti del settore come per esempio le associazioni dei consumatori. Poi c'è sempre la possibilità, ripeto, di far valere le proprie ragioni fuori dalle sedi giudiziarie. E per evitare le continue proposte telefoniche? Su Google per esempio su un motore di ricerca basta digitare il registro pubblico delle opposizioni, troverete un sito nel quale inserire i propri dati personali e verrete iscritti in questo registro che tutelerà la propria utenza telefonica dall'invio di telefonate continue, di proposte commerciali. Adic Umbria dove si trova? È un'associazione consumatori diffusa in modo capillare su tutta la regione, quindi abbiamo colleghi ed esperti dall'Alta Valle del Tevere fino al Ternano, alla zona di Terni. Abbiamo anche avuto nuove aperture ad Assisi e Magione, quindi siamo presenti insomma su tutto il territorio.